Un recente lavoro, tra l'altro l'italiano, ha demonizzato un po' l'utilizzo di latte e latticini per quanto riguarda la salute delle ossa. Ne abbiamo parlato con la professoressa Brandi in occasione del 31esimo congresso nazionale della SIGD. Allora professoressa, fanno male davvero latte e latticini? Tutto quello che noi introduciamo con la dieta fa male se è troppo. Quando parliamo di latte e latticini per la salute dell'osso, dobbiamo sempre tenere presente i mille milligrammi al giorno di calcio. Consideriamo che un etto di parmigiano ha mille milligrammi di calcio, ma noi non vorremmo mangiare un etto di parmigiano al giorno, dovremmo mangiare una quantità inferiore, come anche un bicchiere di latte contiene un po' più di 100 milligrammi di calcio. Allora noi ne dobbiamo introdurre mille e non dobbiamo esagerare con niente. Gli studi che dicono che proteine derivanti da latte e latticini acidificano il sangue si riferiscono a soggetti che fanno un uso, direi smodato, di latte e latticini. Noi dobbiamo sempre essere rigorosi sulle quantità, che è quello che spesso non accade. Ma quando siamo rigorosi sulla quantità sfido chiunque a parlare delle quantità che sono necessarie giornalmente di latte e latticini per introdurre quantità sufficienti di calcio, a dimostrare che queste sono in grado di acidificare il nostro sangue. Quindi una dieta equilibrata. Certo, equilibrata sempre anche per latte e latticini.